Un Corri per Padova particolare perché riguarderà anche la violenza sulle donne? Sì, ancora una volta abbiamo scelto di caratterizzare Corri per Padova con un tema sfondo sociale e solidale. Non è la prima volta che sport e aspetti sociali stanno insieme, questa volta grazie alla presenza a Padova di una cooperativa come il gruppo Polis che sul fronte della lotta contro la violenza sulle donne opera da tempo, vogliamo mettere l'accento su un fenomeno del quale si tende a parlare quando succede qualche episodio di cronaca ma poi spesso ci si dimentica di affrontarlo nella quotidianità. Invece crediamo che sia un problema sociale grave, i numeri che vengono riportati dalle questure parlano chiaro ed è un fenomeno che va contrastato in tutte le sedi. Quindi il giovedì sera correndo, un giovedì sera di sport può essere anche questo un buon momento per non dimenticare che il dramma della violenza sulle donne è una realtà quotidiana anche in Italia.